Ho avviato di nuovo la diretta, scendiamo. Io arrivo sempre qua sopra. Black Manta si chiama quello vecchio. Black Manta. Ah! Devo scappare? No. Guarda, ho fatto capire. No, è scappato. La Queen lo guarda. Tutto un attimo. Ma non è impossibile di scappare. Ma non è impossibile di scappare. Invece di attaccare, facciamo veramente che le aspettiamo qui nel... tipo Termopili. Ma non puoi farlo. Ah, vero. Oh no! E' questo Black Manta dove si è fatta la rosa. La rosa, il fiore. No. Il fiore è... ospite di Catania, lei. Chi è questa della gamba? Nessuno. Non spavire. Nessuno ancora mi sa. No, mi fa troppo strano vederlo coi capelli scuri ora. Mi rimetto quelli chiari a casa. Ma io dall'icona ti vedo sempre strano. Ma è la luce che arriva. Eh... Scusa, che cazzo di luce è? 8000 watt? Non lo so. Io penso che sia il nano che ha quella luce che gli arriva da un là. Tipo sole. Non lo so. Che poi non ha pa... Cioè, nel senso, se io ti guardo nel gioco, sei rosso praticamente. Si, è un rosso... E la invece sei tipo nero. Aspetta che mi metto le pergamene per come le voglio usare in questo momento. Va bene. Io devo essere pronto a poter prendermi le mazzate. Eh... Andiamo. Sì. Che hai fatto? Ok. Let's go, ragazzi! Minchia, gli spacchiamo il culo. Aspettate, io mi posso... Vedo se mi posso... Vedo se mi posso... Vedo se mi posso... Attacchiamo subito. Comproviamo un'altra strada. Ehm... No, aspettiamo. Non è il principio. Penso che non... Penso che non si possa evitare della cosa. Però secondo me... Intanto l'Azelle muore... E la sciamo morta, mi sa, no? L'ammazzo io. Non lo posso neanche restare. Non lo posso... Ma non lo posso neanche restare. La resuscitiamo e l'ammazziamo, no? Ma non possiamo restare. Allora... Vedete, vedete. Occhio! Almeno è servito a qualcosa. Occhio! Occhio! Che diventata. A posto. Durò un turno in più? Non è vero. No. Però gli ha dato una mazzolata. Grasso? Allora, io ho una... Che è successo? Ma io ho fatto l'attacco, eh. Ma mi sa che non è servito... No, io ho fatto distorsione. Ah, ma io posso... Io posso bloccarli. Me l'ho scordato. Mancava. Posso provare a bloccare qualcuno. Se rimango vivo, ovviamente. È morta. Top. Dai, si, cazzo. La sniperata è arrivata di nuovo. Blocco qualcuno? Si, si. Si, si, si. Blocca qualcuno. Eh, chi è la tipa? La blocco la tipa. Tutte e due. Uno dei due, va bene. Mi avvicino, forse, prima, giusto? Non so se cambia... Vediamo. Avevo al sessanta. Sempre sessanta. Buona. Zuka. Minchia, perché non ci ho pensato? E posso... In caso blocco pure l'altro? No, puoi bloccarne solo una alla volta. È su concentrazione. Ti conviene che ti allontano? O mi trasformo? Non ti avvicinare. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare. Al prossimo turno lancio la pergamena. Si. Posso lanciargli pure... Ah, speri, lancio il grasso. Si. Se lo puoi fare, si, però non è il problema. In caso di tutto devo dire... Posso muovermi? Si. Si. ti attaccherà il tizio perchè hai fatto scroll ah no e ti colpisce? merda ah no buono anzi ho fatto pochissime ma li hanno nerfati perchè abbiamo perso troppe volte spero di no perchè mi sentirei proprio non in grado quanto rimane lei? per quanti turni? 10 turni se non superesti la salvezza dobbiamo ammazzarla al primo no secondo me conviene che ci concentriamo sull'altro finchè lei è bloccata cioè sui arcieri dici? si perchè se no quando ci continuano a sparare almeno dopo siamo contro solo questi copertere c'è solo un arciere e rimane a questi due giusto? con lo porter di arciere mazzafrusto del dio cristo dai si è salvato pure dal prono dovevi mandare la l'ho già messa la scroll ok te l'ho tolta perfetto è questo lo mazzoleo si 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 benissimo c'è un nerd ma li ha ammazzato dai no non rimane con uno vero no era dentro clodo sarebbe morta perché era dentro clodo dagger ottimo 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 io lui ci posso mettere in caso metto qua il maledetto posto me ne hai detto cieco me ne hai detto cieco suca proteggo io da questo ottima protezione è quello che ha detto che ha detto il dio dai la senti la ha detto horror come una voce da uomo ahia i pugnali quella vaffanculo ti odio però mi culo sto l'effettutile è stato che si è passata dai pugnali e ti ho fatto male ma comunque tipo c'è ora che ci siamo preparati perfettamente è andato tutto per l'iscio perché abbiamo azzeccato ogni ogni danno ogni tiro che fastidio no si è salvato ma come che ho 12 perché sei passato in mezzo i pugnali non ci dovete passare anche io ma io non ci sono passato dai io non ero completamente in range ma in realtà si ci sei passato in mezzo io sono passato esternamente la linea non mi diceva che ci passavo dentro vabbè comunque in caso mi posso detrasformare la posso ripietrificare in caso io le sto togliendo la vabbè la possiamo mazzolare le ho tolto l'invisibilità se non può andare invisibile prova a disarmarla e invece è arrivato perry doppio perry speriamo che non mi uccide adesso vabbè ti dico dai ti è salvata al concorso comunque raga se avete pozioni di velocità datemele l'abbiamo distrutta l'abbiamo distrutta ok è un buccacke è un buccacke ora bella buona suca suca secondo me li hanno fatti più deboli penso cosa c'è un'armatura ghianky no penso penso quest no no dai pozione dell'invisibilità 821 porca miseria si ah se sei un git ghianky infliggi 1-4 danni p va bene aspetta e la competenza cosa sblocca c'è una gate sword 5-15 no ecco la classica colpo di pomolo lacerazione e incalzare comunque funziona pure con trasformare persone con disguise yourself la competenza è il gitian tavoletta decorata ma stiti circolare i bordi lisci di questa tavoletta io mi pio la sua crossbow se nessuno lo vuole io la posso fare è bella prepotente 2-11 ah ce ne sono due ok io vorrei l'altro e in più fa anche allora dov'è l'altro? lo spadone per me sarebbe molto strong però non lo so ce ne sono due spadoni è qua posso prenderlo quindi? si 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 eh non serve qui c'è una tavoletta decorata pure ma non è troppo più forte comunque è di 1 mi aumenta per me io ho quella 9 ah io ho 1-10 non me la fa mettere? madonna questa per me è fortissima cosa? la spada non mi fa levare quella che ho ma perché forse sono in forma orso e quindi non mi fa fare il fatto di avere un'arma githiaki potrebbe essere controproducente che senso? con altro gente non penso le perle le sto vendendo le tengo cioè le sto mettendo nel werso le tengo tipo perla e ametista eeeh mettile ok anche la moonstone anche se in realtà come si chiama? bloodstone anche se in realtà tipo so che la bloodstone si estrae basta ai nani tipo cosa ai nani non so se nel gioco serve a qualcosa effettivamente ah non l'avete presso l'elaborate slate no qual'è? non so che serve beh io la prendo devo sopportare ah infatti è partenale esatto ma lo sei il pendaglione ma c'è un drago? eeeh ho visto muovere una cosa brutta arcana no ti c'è un drago aspetta è buono dove? aspetta davanti davanti si sta volando buono ma no che grosso il pendaglione oh ah stai portando un dialogo che figata rivela rivela un refugio githyanki in un templo sulle montagne pass questo deve essere il crash che lazel chiede la slate anche rivela l'aspetta di cui gli chiede di cui stanno combando la costa in search di un relico polihedrico di grande importanza per la sua queen ok ok quindi palesemente quello che volete che abbiamo noi la zella aveva delle risorse ah le prese ok vabbè aveva i vestiti si si starfleet non mi ce la vabbè ne incontreremo altre non ha senso prenderlo costa l'armatura si quanto si vende 180 io me la pio per venderla allora puoi prendere tutto eh ma non so se mi basta il peso venditori ce n'è altri a cui posso vendere cose no giusto è tanto no sono veramente 50 sono tanto 180 è tanto si 180 80 con quelli altri 130 costa vabbè eh io non so cioè io sono a 130 di peso divento carico a circa 150 vabbè io le mando al campo comunque sono pergamene che sono sgravissime ma c'è la zella completamente nuda l'abbiamo denudata male andiamo a esplorare le cose che ho visto mentre Dario non c'era così cosa c'ha in mano? che bella bella palestra perché sali di qua? veloce ok ok no salite andate di qua fa ridere Dario che si arrampica c'è una heavy chest però gli orsi effettivamente si arrampica holy water le scale così salendo le scale proprio perché no io resi educati non lo so se io vedessi uno a fare questa cosa avrei veramente un sacco di paura poi lo fai troppo bene proprio da umano tu ce la fai a saltare qua? si si no ti dico Sergio eh non fai eh minchia come fai? mi devo trasformare vabbè potete stare là perché non è solo per il cosa vi mando tutte le boccette io voglio vederlo però è quello che hai visto quando eri gatto ah ok ok vabbè tanto ci sono qua io ci sto rosso non mi piace li torno al collo di prima frega me l'antitocco giro a me è diversa oh yes holy water ce l'aveva andata meglio l'altra volta ma perché? ah no credito è morto me l'ho ammazzato le mando le mando le pergine tutte le mani che vi avete fatto che vi si sono ammazzati? niente non eravamo che scemi ci siamo pensati alla sberle ah ok ah ok la dividizione è sempre e ovviamente ho vinto io però pure una pergamena ti dovrebbe essere prima si si buon sceso buon figlio aspetta io ancora non ho provato guardate che hai fatto? ma cosa ho spettato? e ti posso lanciare? no e tu eri non so proprio ma che invitare? è vero è verità vero true is the truth comunque io veramente ho bisogno di vendere roba ah qua dobbiamo innescare i tiri di prima ovviamente è sempre fallito eh che cazzo ma che schifo oh eh ovviamente perfetto dai mi è rigirato il tiro al cano scusa cazzo vabbè sarà un tiro tipo da uno di difficoltà eh vabbè si è rigirato occhio c'è una coppia c'è il calice di fuoco hai visto quello della S lunga si la donna è su introduzioni stanno iniziando a rotto i scalzi l'avete presa? mi stavo dando a Bodwell che cosa è andato? niente è rubata ordo dov'è la cosa che avevi trovato e avevi scoperto la cazzina? eh qua andando in fondo sulla sinistra uno abile con gli animali si è andandoci davanti e così è fatto eh facci tu che io sono trasformato ok sto laggando come un cristo attenzione che il covi brucia a chiedere il culo che avete l'appartamento questo lo mandate a Etero dove era il bue? dove sei tu? il bue è l'asinello si dove sono io ah io ovviamente ho la mia arma di prima il rimpianto se la volete cos'è il rimpianto? è quella che ha la sferzata dolorosa non ci parlo io? aspetta aspetta prima di parlare qualcosa non mi faccio così rimango trasformato non perdo ma non è qui ok poi c'è l'anello da dare a quello che abbiamo salvato che è la dote e lì c'è il bue oh ma è quello strano questo no? no è un altro io lo sto mangiando poverino è spentatissimo al bue è strano se ci fai tipo ok shadow art nel party a questo punto lei fa quel bue mi guarda in maniera molto strano no no ma c'è la scroll animal friendship la uso no? ma era a te 5 con i bonus lo su ah è tanto che tipo solo uno devi fare per perdere sì ma no ma no male madonna 17 perché se fai uno non ti senti ogni bonus no la hai fallita la moglie so come i goblins si mi 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 Un attacco, monstri, piccoli e piccoli, piccoli e piccoli. Poi prendono l'unico. Ha matato molti. Ehm? Ok, ha fatto apposta. Come ha fatto apposta? Per uccidere il più grande, perché ora è il più grande. Che gran maestro. Mi fratello. Adesso possiamo ammazzare. No! Eccolo patata, c'è carne dentro o no? Ok. Ehi, vamo. Ah, piccio, qua c'è questa... che è? Sono abbastanza affascinante per te in questa mia versione. No, entro. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Ah, perché se mi trasformo in orso, parlo pure come un orso. Ah, ok. E allora... Ehi, calma. Basta. Chi passa? Oh, sono passato io. Sbagliato, non dovevo forse. No, no, tanto come uno di noi... Stai guardando. Chi stai guardando? Chi stai guardando? Chi stai guardando? Ecco. Sì. Oh! Helmthorps! Ho pensato che eravessi una fischia. Eh, più o meno. Allora, subito, allora. Ci saranno pronto. Allora, se stessi cercando di trade, dovresti essere pronto. L'entrante è hidden behind the wardrobe. Here's the key. A posto, ammazziamo tutti. Dobbiamo ammazzarli? Non lo so. Per deformazione professionale. Ci sono robe che possiamo... Fottazzare... Ammazzano? The... The Hatch! Adesso volendole c'erano le metterò sto crudine. Mica è grande. Mi stai rubando. No, no, no. Sì, sì. C'è altro in Dario nella botola da orso? Boh. Ma siete già entrati voi? Io sì. Ah, io pensavo dovessimo seguire altro tipo. Se te l'ha spattato un orso davanti a me. Ma non c'è niente. Secondo me dobbiamo scendere di più. Un libro qua. Ma non c'è nessuno. Ma non c'è nessuno. C'è, non c'è nulla. C'è un tipo. Ah no. È la gama. C'è... Un armadio lockato. Un scorte del campo. Ehm... Aprile l'armada. Tu c'è la chiave, penso. Ah, ok. Eh, ma lo usate pure voi. Ah, eh, certo. Dovamo passare da... Ah, ecco. Guarda quello. Guarda quello. Guarda quello. Ho rubato del vino. Sono un cazzo di grecone comunque. Vino. Ho dovuto sparire l'orso davanti a mio. Troppo un waypoint. Dicami una volta al giorno devo bermi una bottiglia di vino. Lo sto andando come lord del personaggio. No. Ma in che senso un waypoint? È un'altra zona. No. No. Se non è perché così puoi commerciare velocemente da qualche parte. No. Ah, figo. Figo, figo. Si ci sta. Cancello di ferro. Non so se hai... Le risorse, ecco. Ho salito un tiro percezione. Stai parlando? Stai parlando? Questo è Ruben's savior, al bet. Chi parli? Rugga parlando di livella. C'è un po' di ladri. Eh, ma a me non mi sta... Chi è Rugga? Scusa. Quello che abbiamo salvato dagli gnoll. Ma non l'abbiamo ammazzato. No, no. Sicuri si è. Mi ricordo che non l'abbiamo ammazzato. Sì, sì. No, non l'abbiamo ammazzato. L'hai ammazzato di turno due partite, mi sa. No. Quello no. C'è una... Ci sono delle trappole qui. Lui davanti, droga. È un po' di ladri. Guarda come... Com'è col culo all'insù, dai. Ma io posso saltare in questo modo? C'è spazio? Ah no, forse sì. Che è Zaris? Un biglietto qua. Ma scusami, ma come siete passati da quella qua senza disarmarla? Saltando. Vabbè, io la disarmavo. Che è Zaris? Sì, sì. Dove è mio fratello qua? Mio padre. Guardi, io commercerò un attimo quel tipo. Ma che fa quello? Guarda il pazzo. Che sto facendo? Sto spennolando. Non è partito un video qua a me. Oli non lo ricorda nemmeno. Tu, Oli? Sì. Sei morto! Il momento in cui stavi da Zendtrim. Eh, la tipa di Tatania che aveva attaccato a Tocchiara era al Medusa. Ospite. No, al Tattoo. No, al Tattoo. Al Tattoo. Quello Box Tat Tat 2, si chiama. Ricordi un vecchio proverbio Zendt attribuito al loro fondatore. Stai guardando? No. Mi hai reclutato tu, Rugen. Sei stato tu a insegnarmi la regola numero uno. Ricordi? Buah! No, nemmeno Oli se la ricordavo. Non è così. Appena rubi gli Zendtari mi sei morto. Chi sei non conta nulla. Allora, intelligenza storia io proprio non ha minimamente senso. Credi forse di potermi battere è la mia... Minchia, però che fama l'inimico tu. Oh, we just skip the killing. Che faccio? Beh, io farei lo stesso da prima. Tanto il tiro l'hai passato. Indipendentemente dal fatto che il tuo personaggio sia stupido o meno. Eh. Ma che dite? Uno. Tu, Andrea? Io non sto leggendo. Se fai la tre, parte il combattimento. Eh, penso pure io, vorrei evitare. Però vabbè, dai. Semmai è nata di dormer. Ma come? Ma... L'abbiamo salvata. Io lo uccido. Io lo uccido. Mi rappresenta. E non... Non è che sono buono io, quindi c'è... Sì, sì che sei buono. Uccideresti qualcuno. Ma non in questo caso. Sì, ma non in questo caso. Non me ne frega niente. Più che altro. Non è che... Ma obbediresti a qualcuno che ti dice in questo modo uccidi quello? No, però... Non lo farò mi sembra una cosa tipo da buono che dice no, non lo uccide, cioè... Però tu non sei cattivo. Ma non me ne frega nulla di questo, capito? Cioè... Ma forse non lo farò potrebbe essere che comunque... Sei ca... Cosa sei? Cautico neutrale? Come... Come ti definiresti? Del tipo che se... Allora, se sei una cosa che tocca la mia memoria, i miei interessi, allora me la prendo a cuore. Sennò veramente non mi interessa. In questo caso non mi interessa, però non è che c'è una risposta che mi piace tra queste. Forse non lo farò mi aprirebbe più possibilità che obbedire, ucciderlo e basta. Però mi scanto che dico non lo farò perché faccio la parte del buono che dice no, non lo voglio ammazzare perché sono buono. Vabbè, farò comunque al due perché... Vabbè, farò comunque al due perché... Ecco. Vabbè, eh... Bella per noi. Non sono tanti, no. Non sono tanti. Che volete fare? Eh, niente, ammazzate. Alla fine cosa gli hai detto? Che non lo volevo ammazzare? Eh, ci hanno attaccato. Che non lo volevo ammazzare? Eh, ci hanno attaccato. Ma dove siete? Non vi vedo. Ehm... Ah, tu sei qua. Ok. Ma dove sei tu? Ah, davanti a me. Eh, quindi... aspetta, quindi devo venire verso di là. Lancia una faccia infuocata qui. Ma pure da te colpisce. Vabbè. Ma saltami in aria tutte le cose. Sì. Ah no, però sono in mezzo ai due barili. Magari fammi allontanarmi. Ma io non sono verso la... Cioè, nel combattimento. Eh, bene. Mi avvicino da voi o da... Kama? Noi siamo per far saltare in aria tutto. Quindi non mi... Sai dove sei. Esatto. Me lo meriterei però di saltare in aria. Un po' sì, sì, effettivamente. Un po' un po' sì, un po'. Criiisto del re! Quindi devo spingere di sotto. Sì, che è stato. Vieni, 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 vieni. No! Scappa! Mi sono salvato da tutte le cose. Ma dov'è il... Ma perché tu sei qua e lei è lì sotto che inizia il combattimento? E te eravate là a fare il dialogo dall'altro lato della mappa. Ma, ma dall'altro aspetta, dov'è il tizio che aveva incatenato qui? A sinistra e in basso. Ma che roba c'è? Ecco! E' lì sotto e lei è lì sopra. Io non sto capendo, si è bagato tutto. Però un prossimo turno gli do un colpo di sparare a me. Ah no, 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 non faccio sparare niente perché muoiono pure gli altri due. Capito? Ci penso a lui. Esatto. Ci ha pensato a lui. No, non è rimasto vivo. No, non è rimasto vivo. No, non è rimasto vivo. Mi sono fatto malissimo. E' proprio morto e disintegrato. Perché questo... cos'era questa cosa? Cosa? Questa cosa che hai fatto che cosa era? Mi sono curato. Di due? Quanto è inutile sta cuore? No, mi sa che ha dato. Ah. Perché è un diotto. È un diotto di livello del... del guerriero, mi sa. Dal druido, forse. Non è la second wind. Eh, no. Lunar mend. E' una cosa, una magia che posso fare solo da... sformato. Ah, allora... Si, ho capito cos'è. Tu utilizzi... un tuo slot di trasformazione per curarti. Il mio slot di trasformazione? In che senso? Non sbaglio, si. Una delle tue trasformazioni la utilizzi per curarti... Ah, ok. No, perché... l'ho fatto un sacco di volte in realtà. Attacca quello sopra di me. Dove la costruzione del mondo. Eh, non ci arrivo. Ma cos'è che ti avvicini? Sì. 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 Che questi due li... Li butto di solo. Slot, tu regano 8 points. Ok, di slow ground hai troppo poco... chilo per colpire. Dai, che bastardi. Saltaci pure tu, dietro di loro No, preferisco Colpire sto bastardo Bazzata Deve tirare la scala appena E invece Eh no, mi posso spostare ancora Ok, no, posso salire invece Ci posso pure saltare dietro E' arrivata la mamma Ma io tu Già di che incubo ti arriva tipo Sciulca in faccia Con la spada di fuoco Lunga un mese E' tutto viola E' certo La parte più preoccupante E' tutto viola Ho il po' di martello da roba No, non ci arrivo per uno sputo No Non lo posso anche spingere Grazie Però potete morire entrambi Oh no Oh no No, è morto Mangia lui Prendi tutto Mi spingere Lo prendo Eccoci qua Che è successo? Ah, esco più ritardato L'ho colpito Ho il po' di pomello Qui non c'è nessun pomello Questo è un pomello No, è un pomello Non c'è nessun pomello Non c'è bisogno di tirarla di sopra Sì, sì, no Era nemmeno di stare Ah, forse si sta rendendo Scusate Io lo maledico Perché per me non ci so mai Quanti? 500 oro Chiave di Alchemist fire C'è tipo una specie di bomba incendiaria Un arco lungo Una dagger E una basic potion Chi le vuole? Io non le uso mai praticamente Praticamente io ho mandato le cose al tizio Però ce l'ha nell'inventario Mi avevo mandato le cose al tizio Ora però ce l'ha nell'inventario Quindi me le sono riprese Top Dov'è il tipo che dovevamo uccidere? È morto È un tizio vivo Oscar Februs Sì, sì, quello Quello è quello che si è salvato all'esplosione Il gran maestro Il gran visir E l'altro è qui che ha buonizzato Oscar Februs Ma ero quanti esplosivi È un prigioniero È un fratello Ammazziamolo Basta ammazzare gente Tu Stai guardando? No No, me non interessa Io voglio trovare i piedi Io sto luttando Sì Il numero 3 Sono morti tutti quanti Eh, sì Ah, ma ci sono altri qua Oh, è pieno Di nemici Aiuto amici Aiuto, in realtà Probabilmente li ammazzo tutti Comunque, però Questo sembra Solonio di Solespar È uguale È uguale È vero La numero 2 Chi lo sai che sta in cedeggia Anna Vai vai Oh, ma non è scoppiato È sabaccu È sabaccu Ahahahah 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 È rimasto là sotto non può uscire più il lupo è rimasto a peso non può uscire più no ma credo sia morto quello sotto no quello sotto è vivo ma si? è junk e come fa salto bella per lui scatto swiston esplodi? non ti vuoi ma da cui avevo preso sei sotto pure tu no ma che vuole soldi aiutami andrea aiutami ah voleva il vinaccio sto un pericone di me ah ci rivediamo a baldur's gate questa se ne parla nei prossimi anni probabilmente da due anni cos'è quella cosa che è in me una pergamena era aspetta dove siete voi amici? ah ma voi state combattendo si gli ho fatto tre stai cacare dai ma perché avrei volato allora arriverò mi sa vado a riempire l'acqua nel frattempo il figlio di agoromo sensei buono romo sensei l'eremita delle seviglie io vorrei spingere di sotto ma non lo posso spingere ah ci sono le mine si shinura tensei che vuoi ti picchi da solo non ci credo è rimasto vivo ah ma sono i lupi in dry store no lupo lupo no aiuto lupo lucio è un mozzico aia 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 ma scusa ma perché dice che sono in mezzo ma non lo posso fare ma sberta ma sono il primo ma non mi fa fare il tutto è perché devi aspettare che arrivo io e poi puoi combattere tu no no sei girata sono arrivato vicino a voi sai è tipo a un centimetro da una vicina di prossimità dai che culo ma perché sono girato verso di vol ma non lo posso buttare di giù 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 non lo posso fare mi senti no che padre questa cosa come no perché sono io ero andato verso farlo non mi pare dove sei perché sei andato verso di me ma sei entrato nel range del combattimento e quindi ti ha bloccato lì no no dicevo che mi ha girato pure dall'altro lato ma che ho le mine bother ci proverò sei grosso oh no spero che spero che non succeda niente appena mi giro perché i sbotti me ne sono andati voi nel primo pomeriggio dopo prendo ci siete sì sì io dovrei senti chiare raga non troppo però sì io devo studiare perché facciamo che tipo le tre e mezza quattro stacchiamo massimo io le tre e mezza devo staccare a prescindere da andermi a prendere le e allora andiamo a mangiare ma io cado sicuro da qua allora io faccio così vedo come scoppio ma adesso salto su la visita ma donna si per fa le vedo le mine ti però è anche noi vedevi vivere l'altra volta esatto l'altra volta io non non sapevo che il congelamento distruggeva no ce faceva un altro Dario no madonna ma sarebbe fatto ridere questo questo è preso la vita è tipo madonna allora 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 dai che poi tipo è praticamente morta sta bastarda e ha due di vita ma c'è il sanguinamento per noi le entro è morto tutto brutto no ma qual'è notizia no no non ci arrivo vabbè non ho capito lui tira fa cosa chi tira io ha tirato allora con questo spadone è veramente forte si ma come Puffy si si ferrappe c'è il coso c'è la barricata allora piano ano ah oh no c'è quello sotto di noi anche un altro ma dove infatti ma dove qua è nascostissimo ah Gurg ma come ti permette mi aspetta con le le balestrine che cosa mi ci posso lanciare ah non posso lo saltare ah non posso lo saltare che ti lancia sulla testa che non mi fa saltare non posso non posso non posso ho fatto lo slanto è che so per il dust ma non l'ho no non l'ho usato lo slanto mi sono preso la mia lascia no aspetta forse non ti basta lo spazio vabbè aspetta un tour la propria che mi piglio in faccia adesso ah no no niente ho fatto un cazzo c'è delle chiavi mi stai mostrando il culo è un disrispondo ahahah 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 mi sa che questo sarà come contribuirò al combattimento perchè il tempo che arrivo là voi l'avete già distrutto alla cazamma ah vada che davra e poi ti metti come è morto no? sto rapido riposando c'è una scimitar c'è un button schiacciamolo nooo scoppia tu ah veramente apre la porta devo dire le mie palestine vada ma c'ho le ma come si chiama le le chiavi perchè non mi fa perchè mi muovo fluido forse non sono chiavi che aprono queste cose c'è un'altra chiave però ho preso un'altra chiave c'è le palestrine guardami ah che c'è? ok qui c'è un buco e le ceste sono ci sono trappole il buco penso sia per entrarci dall'astrona io ho aperto con la chiave al momento no al momento no ok mi ha trovato una cesta tornata dei quanti potentissimi ora vado a prendere bello il quadro ma voi dovete staccare per mangiare perchè se no io piglio una cosa e mangio qui mentre giochiamo si no io devo staccare c'è qualcuno che evoca creature no mi sa di uno c'ho un dipinto pigliolo lì da voi eh pigliolo guarda te lo mando posso attaccarlo il dipinto non attaccarlo ah illusione 8 ma smetti la non la distruggere ma la smetti quella si vende bene la maiden quella del tipo c'è un ascensore qua lo vuoi appendere in cameretta ah ma ci sono una cesta a disarmare si devi si sono un trappole quindi ok che sono su figliere comunque vabbè facciamo una cosa a disarmare queste cose salviamo e vado a mangiare mi stanno aspettando una è fatta devo provare a spiccarla mi sa 100 gold no no non sono andato a spiccare no puoi prendere il button puoi prendere il pulsante 250 gold e l'infernal iron e una portion of healing buono ricordiamoci perchè ne abbiamo già due infernal iron comunque io ho ho tra l'altro dodici fuochi dell'alchimista che dovrei dicere se non è convinto usarli perchè ne ho dodici si ne ho quattro me ne sono ne ho smesso di prenderli per questo motivo li metti tutti in un punto e poi gli spari una spell si esatto ma guarda che davvero è curva cosa c'era nei codi ma no ho paura ogni tanto lo devo fare ricordarci che lo posso fare ah cosa vabbè posso salvare giusto si si ah ma il tipo sotto c'è roba c'era i coltellini i no c'era anello di periodotite carnelian carnelian ring garnet ring e ora come risalvi ma lascio lascio tutto acceso qua allora volete staccare io lo spengo il gioco comunque ok eh si pure io no c'era no c'era no c'era no c'era no c'era no c'era